L'attività dell'amministrazione comunale di questo periodo e soprattutto del sottoscritto con la supervisione dell'onore del signore di Giuseppe Saiocco è quella di stabilire le procedure per poter trasferire lo sportello unico per le attività nella struttura nuova di Piazza Crispi, struttura che è stata posta in essere per poter poi annoverare questo tipo di attività. L'attuale amministrazione, quindi il sottoscritto, lavorando di concerto con l'assessore all'urbanistica, stiamo verificando l'efficienza della struttura per poter poi arrecare un servizio ai cittadini, evitare lungaggini burocratiche, evitare consegne di materiale cartaceo e quindi informatizzare tali strutture per poter accelerare ovviamente le lungaggini burocratiche e per evitare il deposito di materiale cartaceo per tanto tempo nei nostri uffici. Al riguardo è stato già effettuato un sopralluogo con il dirigente dell'ufficio affari generali, l'avvocato Nerone e con i responsabili dell'ufficio CED, il signor Dommimo Coscetta, per la verifica della struttura, dei vari punti e dei vari ambienti dove verranno allocate ovviamente lo sportello unico per le attività. Si sta cercando di trasferire attività che abbiano un'attività sinergica tra di loro, quindi non trasferimenti tanto per evitare eccedenze nella casa comunale, ma trasferimenti legati ad una sinergia collaborativa attraverso quindi delle informatizzazioni che possano quindi arrecare dei servizi più celeri ai cittadini come dicevo poco anzi e soprattutto per evitare che il cittadino abbia delle difficoltà nell'attuazione di qualsiasi voglia attività economica produttiva oppure di attività legate dell'edilizia. Grazie. Grazie. Grazie.